A differenza di quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, l'Italia non ha ancora oggi una legge per tutelare giuridicamente le unioni civili, anche fra persone dello stesso sesso. Nel 1994 il Parlamento Europeo emanò una risoluzione con cui chiese agli stati membri di estendere il matrimonio anche alle coppie omosessuali, in nome del principio di uguaglianza dei cittadini. Nel 2010, ultime in ordine di tempo, anche Austria, Irlanda e Ungheria hanno approvato una legge sulle unioni civili. La questione potrà trovare soluzione soltanto in Parlamento, ma i comuni possono contribuire al riconoscimento di alcuni diritti con gli strumenti giuridici di propria competenza. La giunta dei magistri sa adottato l'istituzione del registro delle unioni civili che adesso è al vaglio del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Nella sfera dei benefici governati dal Comune, le coppie registrate acquisiranno diritti sui temi della sanità, della casa, delle politiche sociali e educative, della partecipazione. Si tratta di un atto molto importante al quale il sindaco e l'intera amministrazione teneva in maniera particolare. È una scelta che va nella direzione della laicizzazione e della modernizzazione della nostra comunità. Noi non solo riconosciamo le unioni civili, ma riteniamo che queste unioni debbano fornire l'accesso ad altri fondamentali diritti come il diritto alla casa, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto all'assistenza socioeducativa. Una condizione di diritto paritaria, per esempio nei bandi per l'assegnazione dei nostri alloggi di dirizia residenziale pubblica, l'unione civile darà titolo di partecipazione e di accesso finalmente. Intanto, applicando una norma del 1989, la Giunta ha già attivato la registrazione delle famiglie anagrafiche basate su vincolo affettivo.